Sì, la situazione finanziaria dei comuni di montagna, dei comuni del Bellunese non è diversa da quella degli altri enti locali, si vive momenti particolarmente difficili e complessi, tuttavia come comune di Belluno due anni fa abbiamo deciso di sforare il patto di stabilità, ne abbiamo avuto un grande beneficio in termini di possibilità di interventi, ovviamente i benefici derivati da quell'anno ora si sono esauriti, complessivamente dobbiamo dire però che è una realtà territoriale, quella bellunese, che insieme a tutti gli altri comuni riescono a coagularsi intorno al consorzio dei comuni, il BIM, che è il consorzio che raggruppa tutti i comuni e in questa maniera riesce a far fronte alle difficoltà oggettive di natura finanziaria che colpiscono tutti gli enti. Ciò nonostante come comune di Belluno possiamo dire che abbiamo avviato opere significative soprattutto sul piano viabilistico, soprattutto sul piano infrastrutturale dove il deficit di chi abita in montagna è più rilevante.